Questa mattina Mazzara del Vallo, il quarto gemellaggio del club nazionale Fiat Barchetta e Spider Club Sicilia. Qui a Mazzara, accanto a me i due presidenti, da dove nasce questa iniziativa, questo gemellaggio? Allora, questa iniziativa nasce chiaramente dal fatto che il nostro obiettivo è quello di riunire tutti gli appassionati delle vetture d'epoca, degli Spider, di qualsiasi marca in natura. Io in primis rappresento il club nazionale Fiat Barchetta, quindi monomarca, quindi parliamo della Fiat Barchetta, lo Spider che Fiat ha fatto circa 20 anni fa. Poi chiaramente io sono marsalesi appassionato, ho avuto il piacere chiaramente di conoscere gli amici dello Spider Club Sicilia di Salemi, quindi qui il presidente, il dottor Voluti. Di conseguenza è partito questo gemellaggio quattro anni fa, che chiaramente ha portato i suoi risultati, ci ha fatto piacere chiaramente perché abbiamo restaurato anche degli ultimi rapporti interpersonali, oltre che chiaramente condividere la passione per queste Spider e di conseguenza tutti gli anni a giugno lo abbiamo ripetuto. Infatti siamo alla quarta direzione e contiamo di andare abbastanza avanti. Come è andata questa riunione oggi? Questa riunione è perfetta perché siamo diventati un gruppo di amici, sia il club Spider Barchetta che il nostro club, che raccoglie auto di tutte le marche, nuove e vecchie. Abbiamo avuto la partecipazione del sindaco che ci ha gentilmente dato la possibilità di posteggiare in questa bellissima piazza, adesso gireremo la zona antica di Mazzara e poi pranzeremo qui. La giornata ci asseconda in maniera perfetta e anche voi, gentilissimi, grazie di tutto. Quante le auto che stanno partecipando? Le auto sono circa 20, dovrebbero essere 40, ma ognuno per motivi particolari non è potuto venire, ma già 20 macchine è un buon numero. Quindi l'appuntamento all'anno prossimo? Sicuramente, l'anno prossimo saremo di nuovo qua. E quindi ci diamo un appuntamento per il quinto gemellaggio tra club nazionale Fiat Barchetta e Spider Club Sicilia. Voglio ringraziare chiaramente l'amministrazione comunale per quanto ha fatto, chiaramente, per quello che si è messo a disposizione. Grazie ancora e grazie anche a voi, gentilissimi, grazie. Grazie.